salve a tutti oggi vi faccio vedere come fare questa borsa per trucco di solito io faccio maglia e uncinetto ma oggi ho detto ho deciso di provare a fare questa borsa io non sono una professionista ma spero che capirete quello che farò io non sono una professionista e sono riuscita a farlo non è perfetta perché ci sono molti sbagli ma ci sono riuscita a farlo spero che la proverete anche voi come vedete si apre qui dentro e così adesso andiamo passo passo e vi faccio vedere come farlo allora abbiamo bisogno di una come questa queste 32 centimetri per 9 centimetri 32 e 9 abbiamo bisogno una d che mettiamo fuori una dentro e questa non so come si dice in l'italiano inglese si dice vai lì questa si mette con sopra questa così e poi la stili e vengono insieme non so come si dice in italiano allora 32 per 9 centimetri abbiamo bisogno di questa 12 centimetri centimetri con 8.8 centimetri con 8.8 centimetri 12 centimetri 8.8 centimetri abbiamo bisogno una da fuori una da dentro o una come questa abbiamo bisogno soltanto una di una di questa soltanto questa è 13.5 centimetri 13.5 centimetri per 6 centimetri 13.5 centimetri per 6 centimetri abbiamo bisogno di soltanto una e una di questa per farla stirare con questa qui adesso questa 32 centimetri per 4 centimetri 32 per 4 abbiamo bisogno una da di fuori una di dentro e questa qui 32 per 4 centimetri e gli ultimi abbiamo bisogno due di questi due di questa e due di questa questi sono 12 centimetri per 12 centimetri allora 12 per 12 e 2 2 e 2 adesso come vedete ho stirato il violin non so come si dice in italiano ho stirato con il davanti qui li ho stirati tutti li ho messi con questi usando mettendo così con stirare e si attaccano al materiale come vedete come vedete ho tagliato qui ho tagliato qui così tutti 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 qui intorno li ho tagliati così tutti e due quella di dentro adesso adesso prendiamo una di queste una di queste facciamo qui il dietro con dietro così e li cuociamo con la macchina da cucito intorno insieme insieme tutti e due questi sono pronti li ho cuciti con la macchina da cucito insieme come vedete tutti e due adesso stiamo per fare la maniglia la maniglia credo che si dice la maniglia quella dove prende la borsa con con la quale prendere la borsa e quella è quella quella parte dove di 13.5 centimetri con 6 cm allora 13.5 con 6 cm allora la mettiamo così prima poi la facciamo così prendere questa parte in mezzo questa parte in mezzo mi mettiamo così e poi cucite con la macchina da cucito qui qui e qui questa questa parte e da questa parte dovete cucire questa parte e questa parte questa è pronta come vedete adesso prendiamo la parte superiore della borsa questa è la parte superiore questa la facciamo così così troviamo il mezzo qui è il mezzo qui prendiamo questa la facciamo qui mettiamo qui cuciniamo con la macchina da cucito troviamo il mezzo dell'altra parte e cuciamo anche questa parte qui questa parte questa parte questa parte questa è la maniglia adesso abbiamo la cerniera la cerniera deve essere 30 cm lunga 30 cm lunga e questa è la parte di 32 cm per 9 cm questa qui allora prendiamo questa qui prendiamo la cerniera la cerniera la giriamo così e la mettiamo sopra qui poi prendiamo la parte di dentro e la mettiamo sopra qui e poi cuciamo qui con la macchina da cucire vi mostro di nuovo allora questa prendiamo la cerniera la faccio questo colore per per essere come questo colore qui del fiore la giriamo così sopra qui prendiamo questa la giriamo sopra qui e facciamo con la macchina da cucire la cuciamo qui allora questa è pronta come vedete li ho fatto li ho cuciti insieme adesso questa la mettiamo così prendiamo come si dice in italiano con la la stiriamo stiriamo qui con la macchina da stirare qui la stiriamo bene qui e poi facciamo un punto sopra qui con la macchina da cucito qui facciamo un punto sopra con la macchina da cucito allora come vedete questo è pronto ho fatto il punto qui con la macchina da cucito adesso questa qui queste di 32 cm con 9 cm questa qui abbiamo qui e abbiamo quest'altra da dentro allora prendiamo questo qui facciamo girare e la mettiamo sopra questa qui vi faccio vedere di nuovo questa è così la facciamo girare la mettiamo sopra questa qui poi prendiamo quest'altra e la mettiamo anche questa sopra questa sopra questa qui sopra questa qui sopra qui e poi cucina cuciamo qui con la macchina da cucito questi tre insieme li cucciamo insieme vi faccio mostrare di nuovo questa la giriamo sopra questa qui prendiamo questa la giriamo e la mettiamo sopra qui e poi cuci ci cuociamo qui con la macchina da cucito questo è pronto come vedete ho fatto un punto anche qui sopra qui ho fatto un punto adesso abbiamo prendiamo questa parte questa 12 cm 8.8 cm qui 12 8.8 la giriamo e vediamo qui dove comincia questo qui e la mettiamo la facciamo dal 12 cm da 12 cm la mettiamo così dove ci sono i 12 cm ci giriamo prendiamo la parte di dentro dove c'è i 12 cm e la mettiamo così e cuciniamo cucite 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 questa qui i tre insieme insieme questa questa qui le cucite insieme allora questa è pronta l'ho attaccata con questa qui anche questa insieme e ho fatto un punto sopra qui dove dopo averli attaccati insieme ho fatto un punto qui adesso prendete questa qui soltanto questa qui la fate girare e la mettete dall'altra parte così e cucite con la macchina da cucito qui soltanto questa questa la lasciate qui soltanto questa mettete qui e la cucite come vi ho detto qui allora questa è pronta l'ho attaccata qui soltanto questa questa no adesso prendiamo questa qui qui lo mettiamo così prendiamo questa qui giriamo qui giriamo la giriamo e la mettiamo così qui e la cucite tutta quanta così sempre girare qui e la cucite con la macchina da cucito la cucite così come vedete questi sono pronti li ho attaccati insieme adesso dobbiamo fare questa qui è quella di sotto allora per trovare per prima le facciamo come le marchiamo mettiamo ci sono questa con questa così avremo esattamente marchiamo qui qui poi lo facciamo questi li mettiamo insieme così così marchiamo anche qui e marchiamo qui dobbiamo avere quattro marche e poi fate lo stesso da questa parte da due liste da due le parti dovete fare lo stesso adesso dobbiamo marcare questi anche questa qui questa è stata marcata l'ho marcata per fare le marche dovete prima mettere così di mezzo marcare qui qui con cui marcare qui poi fatela così marcate qui e marcate qui e con questa fate lo stesso questi qui sono già marcati quello che dovete marcare questa qui allora la mettete così marcate qui qui e marcate qui e questi sono marcati anche questi soli abbiamo marcati tutte e due questa è questa allora cominciamo a farli mettere insieme trovate la prima qui trovate una qui e fate le marcate così questa è la prima trovate trovate la seconda mettate insieme così la terza mi mettete insieme e la quarta invece la quarta marca mi mettete insieme qui e poi la cucite cucite tutto insieme così 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 che sono marcati è più facile a farla bene continuate a cucirla così poi quella è sotto sopra avete questa con le con la manica la girate allora la manica deve essere una deve essere qui dove avete questa qui ma dovete fare qui l'altra dovete la trovare l'altra mettete la qui qui dove fate come abbiamo fatto di sotto come vedete questa è pronta abbiamo attaccato qui sopra e abbiamo fatto anche sotto qui ma questa qui così non è dobbiamo farla più pulita così non è così bella come si vede allora avete bisogno di un po di materiale che sia un po elastico se elastico meglio così qui la mettiamo qui prima l'attaccate così da qui tutto il giro qui l'attaccate così quando sarà attaccata da qui la fate girare qui così questa la potete la fate dentro e la fate così tutta tutto intorno così qui e sotto così è molto più pulito come vedete adesso è pronta l'ho girata tutta con questa qui qui e sotto e sopra girate tutta pronta adesso vi faccio vedere come viene pronta questo risultato finale come viene come vedete è pronta qui abbiamo dovuto da dove la maniglia si apre e qui si mette le cose dentro e si chiude e avrete questo risultato spero che avete capito quello che ho fatto io non sono una non cuccio molto non sono tanto bravo a cucire però spero che avete capito quello che ho fatto il risultato non è così male per una che non sa cucire così tanto spero che lo proverete ciao per adesso